una specie di cavallo di chirro io mi ricordo i cararmati mi ricordo quando andavamo in bussola e dicevano lui viva un battaglio sentivano i randi che aveva fatto l'armistico i cararmati mi ricordo i cararmati hai mani loro i cararmati i cararmati come si chiamavano? i piombini che noi pigiavamo che erano vacanti erano le ditte che erano a vuoto in modo che mettevano la ponte ed erano proprio lì avanti di fronte di fronte là dove c'è un marciapiede dove si sentono da che dicevi ai tedeschi zio? io guardavo sti cararmati c'è stato una domenica alle ruote erano tutti quanti a chiesa a sentire la messa non so se te lo ricordi cosa? quando è appena finita la guerra gli tedeschi si ritiravano e passavano le pazzate e allora vi ricordo che era la domenica e c'era la messa la mattina non so se erano i cararmati allora allora tutta una volta tutti i mammi venivano da casa e gli ho detto tutti quanti a tezzan mi ricordo che a mazzotta mi ricordo che abbiamo a tezzan a suo padre il mio nonno o giuccia la nonna si si questa me la ricorda che le sentiva la gente dice che devono prendere le coperte o così davano si 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 si